Amici sportivi, bentornati a Rete Calabria Sport News, il primo ed unico telegiornale sportivo della nostra regione. Quattro edizioni al giorno, pochi minuti ma intensi questa, la nostra formula, tante le cose da raccontarvi anche oggi. Allora partiamo subito dal calcio perché dopo l'allenatore, il direttore sportivo, la Vibonese, toccherà allestire la squadra che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo. Poche le pedine che verranno confermate, allora facciamo il punto delle trattative in corso e future in questo servizio partendo da qui e dopo. Tutto il resto, via! Allenatore, direttore sportivo, squadra e ripescaggio, questo il programma stilato dalla Vibonese è già esecutivo. Preso l'allenatore si punta dritto al direttore sportivo, una figura che dovrebbe essere scelta la settimana prossima quando in città arriverà il tecnico rosso-blu Gaetano Di Maria. Il club del patron Caffo non vuole perdere tempo e mira ad allestire un organico in grado di vincere in eccellenza e, in caso di ripescaggio, di ben figurare in Serie B. Il marchio di fabbrica di Di Maria è il 4-3-1-2 con i quattro under obbligatori che probabilmente verranno piazzati tra i pali, le fasce laterali e il centro campo. In porta, in caso di ripescaggio, in Serie D la Vibonese potrebbe affidare i pali a Mattia Peschè, che era classe 94, nell'ultima stagione in prestito al Brindisi, che vante il diritto di riscatto. Da esercitare entro il 30 giugno scontate invece le partenze di Riccardo Mengoni e di Gabriele Loccisano. In difesa l'idea di Massima è quella di schierare sulla destra un 95 e sulla sinistra un 96. Al centro della retroguardia Di Maria potrebbe portare con sé a vivo uno dei suoi fedelissimi, Davide Taverniti, già in rosso-blu nel 2004. È reduce da un buon campionato con la gioiese. Alla dirigenza piace Luigi Manzo, classe 85, ex Savoia ed ex Gelbison e nella lista dei possibili riconfermati figurano i nomi di Luca Calzolaio e Andrea Petta, via tutti gli altri. A centro campo, tra i fuori quote, il sogno è rinnovare il prestito di Carbonaro, idea fattibile solo in caso di ripescaggio in Serie D. Tra i 95 piace Trofo, allicata nell'ultima stagione, ma di proprietà del Lecce, Di Maria avrebbe chiesto la riconferma di Cosenza e l'ingaggio di Lavrendi, altro suo fedelissimo e altro cavallo di ritorno a vivo. Potrebbero rimanere anche da Dalte e Foderaro. L'attacco sarà con molta probabilità il reparto che subirà una rivoluzione. Si cercano un trequartista e due attaccanti, uno potrebbe essere Diego Allegretti, classe 92, e quindi ancora vincolato alla Vibonese. La sua permanenza è però legata alla categoria, il resto è un rebus, tutto da risolvere. Sempre a Vibo Valencia festeggiata la giornata nazionale dello sport, organizzata dal CONI, una festa nella festa che ha coinvolto tante persone, ma soprattutto tantissimi bambini. Segnata dal sole e dal successo, la giornata nazionale dello sport, organizzata dal CONI Point di Vibo Valencia, capitanato da Salvatore Mangone. Una festa nella festa per l'organizzazione guidata da Giovanni Malagò, che compie quest'anno i suoi primi 100 anni di attività. Un evento che a Vibo ha coinvolto parecchie società sportive del comprensorio, ma soprattutto tante persone comuni e tantissimi bambini, protagonisti assoluti dell'iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, lanciata in tutta Italia dal Comitato Olimpico Nazionale. A fare da cornice alle attività ludico-sportive, il Parco Urbano, una giornata contraddistinta da una mini-maratona per le vie della città, senza vinti, ma solo vincitori. Alla fine, coppe e medaglie per tutti a un premio speciale ad Enzo Insardà, medaglia di bronzo al merito sportivo per il ventennale impegno profuso a Vibo e non solo. E allora, questa è la giornata nazionale dello sport, organizzata dal CONI Point di Vibo Valencia. Prima di passare ad altro, ci trasferiamo sul web, sul nostro sito internet www.retecalabria.tv. Ve lo racconto ogni giorno, ormai anche se lo conoscete davvero tutti, in primo piano e in evidenza le notizie legate all'attualità, alla cronaca e alla politica. E dopo la parte dedicata a chi come me, come voi, ama lo sport. Andiamo a leggere una delle ultime notizie curate dalle nostre redazioni. Andiamo al Catanzaro perché spunta un nome nuovo per la panchina. La rete di brevi non è stata ancora trovata, questa però dovrebbe essere la settimana decisiva per definire la scelta del club giallorosso. Nella rosa dei papabili, anche Leonardo Menichini continua la ricerca delle rete di brevi in casa giallorossa. Il Catanzaro, oltre a Francesco Moriero, in queste ore sta valutando il profilo dell'ex tecnico di Pisa e Grosseto, Leonardo Menichini. Sinora ci sono stati contatti esplorativi fra le parti, ma il nome dell'ex vice di Mazzone è gradito anche alla tifoseria catanzarese per via del passato da calciatore nelle fila delle Aquile. Insomma, queste le ultime notizie legate alla panchina del Catanzaro. Ve lo ricordo, allora www.retecalabria.tv se volete seguirci non solo in tv, ma anche dai vostri computer, telefonino come facciamo noi sui portatili. Siamo adesso al bodybuilding. Vincenzo Montuori si conferma la massima espressione del culturismo calabrese. L'atleta di Vibo Valencia è stato incoronato vice campione nazionale della sua categoria. Chiamatelo King, il re o uomo d'acciaio, il risultato non cambia. Vincenzo Montuori resta il numero uno del bodybuilding calabrese. Lo ha confermato ancora una volta nella più importante carmessa italiana di culturismo. Il torneo organizzato dalla federazione UABBA è andato in scena nei giorni scorsi a Catania. Un evento che ha incoronato il giovane vibonese vice campione nazionale nella sua categoria. Nato a Vibo Valencia 27 anni fa, Vincenzo ha fatto dell'arte pesistica che lanciò Arnold Schwarzenegger la sua filosofia di vita trasformando pesi, bilanceri e manubri nei più stretti compagni della propria esistenza. Qualità genetica e sacrificio hanno fatto il resto. Già, sacrificio. Parola d'ordine tra chi come lui rinnega la chimica. Troppo spesso usata in questo sport per un più sano ipersudore. La maggior parte della gente che viene in palestra che vede un fisico palestrato asciutto e tirato secondo la maggior parte delle persone si può arrivare solo a quei livelli chimicamente. Però io posso ribadire che si possono arrivare agli ultimi risultati naturalmente impegnandosi soprattutto alimentarmente. E dopo il titolo nazionale e regionale in soli cinque mesi che portano a sé i trofei alzati in totale in sette anni, Montuori è pronto per altre sfide. Spero di riuscire a vincere il The Best per qualificarmi, per riuscire a fare il Dottori a Bologna. Il The Best è già in una gara soverata dove ci sono atleti di buonissimo livello. Vincere il The Best per aspirare un Dottori credo che sia il massimo. E con Vincenzo Montuori, vice campione nazionale del trofeo UAB, si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale sportivo. Grazie per averci preferito. Se volete ci rivediamo più tardi con altre notizie ed altri servizi sullo sport regionale firmato a Rete Calabria. Buon proseguimento. D'Alessio, buon passo.